Reminiscenza. Che cos'è la reminiscenza? Commento. La reminiscenza è un ricordo che non proviene dal corpo mentale ma dalla coscienza che è l'unico corpo immortale dell'uomo. In genere la reminiscenza è un ricordo doloroso di una passata incarnazione. Perché doloroso? Perché se manca la dolorosità che ha caratteristiche vibratorie più forti della gioiosità, la reminiscenza non ce la fa a trasudare dalla coscienza alla mente dell'individuo e divenire così oggetto della sua consapevolezza. Grazie.